Mercoledì 17 novembre 2021, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellonesi del Mondo. Dai nostri studi in via cavortare a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Incominciamo quindi subito con la lettura dei titoli presenti in prima pagina. Partiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. Si apre purtroppo con una tragedia avvenuta in provincia di Belluno. Questo è il titolo. Travolta e uccisa dal pirata. Il corpo della donna rinvenuto dopo 12 ore. L'automobilista rintracciato l'indomani dai frammenti dello specchietto. Dramma a Fonzaso. Falciata da un'auto e sbalzata al di là di una ringhiera che delimita le pertinenze della dita Mauser. È morta così Emilia Santorini, 63 anni, uccisa da una Ford Fiesta che l'ha investita in pieno lunedì sera nella zona industriale di Fonzaso. Era buio e la zona della Fenadora era immersa nella nebbia. L'auto non si è fermata ma i carabinieri di Feltre sono state sufficienti poche ore per risalire al conducente, un 25enne del posto. Il ragazzo ha subito ammesso di avere compiuto l'incidente affermando però di non essersi reso conto di avere investito una persona. L'approfondimento di curto lo troveremo da pagina 20 a pagina 23. E la foto di copertina è dedicata appunto a questa tragedia. I rilievi nel luogo dell'incidente mortale a terra segnalato con il numero 3, lo specchietto perduto dall'automobile, ne riquadro la vittima Emilia Santorini. Non affettuosa e riservata faceva quel giro tutte le sere. Un altro richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi in merito a questa tragedia che ha colpito la comunità di Fonzaso. Non affettuosa ma per il resto una vita condotta in modo estremamente riservato, vivendo le sue passioni, le passeggiate, la bicicletta da sola oppure con i fratelli. E sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, Val di Zoldo, scarica di sassi sulla 251, il sindaco ora basta. Sanità, la teleoculistica parte da Pieve con il retinografo per diabetici. Belluno, il bar della Spessa resta chiuso, c'è rischio assembramenti. E ancora il cuore di Carabiniera, io cavaliere, un'emozione unica all'approfondimento di Sosso. A pagina 19. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. Come sempre incominciamo con l'edizione nazionale per poi proseguire con l'edizione riferita alla provincia di Belluno. Ecco come si apre l'edizione nazionale. Vaccinati, niente restrizioni, i rischi o lockdown, le regioni. Chi è protetto non può pagare un prezzo di cui non ha colpa. Secondo uno studio, il Friuli Venezia Giulia potrebbe finire in zona arancione il 10 di dicembre. E dalla prima pagina del Gazzettino edizione nazionale abbiamo un richiamo in merito alla tragedia avvenuta a Fonzaso, investe e uccide una donna, ha preso il pirata, ero al telefono, tragedia nel feltrino, l'auto rintranciata grazie anche ad alcuni frammenti. Veneto, Leghisti e Zaiani, La Fusione, un unico gruppo in regione. E la foto di copertina è dedicata al Mose, fondamentale per uno su tre, ma il 49% teme non basterà. Solo il 16% è inutile o negativo. Questo per quanto riguarda un sondaggio realizzato per conto del Gazzettino. E parlando di Gazzettino di Belluno, il richiamo ci porta a pieve di cadore e prescrizione vicina per il rogo alla pizzeria, l'approfondimento di Piol a pagina 13. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino. Breve panoramica, in merito alle notizie di carattere nazionale e internazionale. Siamo nel nord-est, in Friuli, Venezia, Giulia, pagina 2, Covid a nord-est, regioni confedriga. Il presidente di questa regione del nord-est, restrizioni soltanto per i non vaccinati, da Toti a Occhiuto, da Fontana, Ciri o fronte compatto, immunizzati liberi. Domani il dibattito nella conferenza, ma si le rifrena nessun nuovo limite. E a proposito di emergenza sanitaria, record di tamponi, 128.822, il Veneto cambia le regole. Nell'ultimo bollettino 16.942 molecolari e 111.880 antigenici, trovati 1.278 contagiati. Nuovo piano di sanità, controlli più frequenti per gli operatori e il test ora si paga 15 euro. Politica, legge di bilancio, fisco, i paletti del Premier, almeno 6 miliardi sul cuneo. Il capo del governo non vuole spezzatini per il taglio dell'IRAP al massimo 2 miliardi. C'è il timore che il confronto con i leader politici porti a disperdere troppo le risorse. E sempre dalla politica nazionale, le nomine della TV di Stato, RAI, scontro, Meloni-Lega, Salvini non cede il Tg2, la richiesta di Fratelli d'Italia, una testata per noi o parte il referendum per abolire il canone. Dictat dell'Usigrai, Nova Reto e a tutti gli esterni per il Tg1 sfida Maggioni-Sala. Le scelte del palazzo, politica, leghisti e zaiani, la svolta, gruppo unico in regione, via i riferimenti al governatore e a Salvini, la nuova formazione si richiama alle origini. Siamo una voce sola, ma in consiglio restano le due strutture con spazi addetti. La polemica arde dalle elezioni 2020 quando la lista Zaia vinse il derby interno con la Liga Veneta per il 44,6 al 16,9%. E adesso richiamo a livello nazionale in merito alla tragedia avvenuta a Fonzaso, distratto dal cellulare, travolge, uccide donna e a passeggio e poi scappa. Tragedia d'Arten di Fonzaso nel Feltrino, 24enne incastrato dai resti dell'auto sul posto, la 63enne investita lunedì sera sbalzata nel parco di una ditta trovata solo ieri mattina. L'approfondimento lo troveremo all'interno dell'edizione riferita alla provincia di Belluno. E altri fatti di Cronac, uccide il figlio di 10 anni, aveva il divieto di avvicinarsi. Tragedia vicino a Viterbo, l'uomo malato di Covid era stato dimesso ieri mattina da una struttura romana, si è barricato nell'abitazione e ha aperto il gas. Faccio saltare tutto, ferita anche la donna. Fatti di carattere internazionale, Baineng si, torna il dialogo, il disgelo per ora non c'è, quattro ore di videocolloquio dai diritti umani alla cybersicurezza, molte divergenze. Il leader cinese sconfessa Mao, commise molti errori, minacce agli Stati Uniti su Taiwan. Belorussia, Lavrov, violenze inaccettabili, gas lacrimogeni al confine sui migranti, la Polonia lanciano pietre contro i soldati. E passiamo adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno, adentriamoci immediatamente al suo interno con pagina 2 ed ecco l'approfondimento riferito alla tragedia avvenuta nel comune di Fonzaso, la tragedia di Arten, frazione del comune di Fonzaso, falciata dal pirata, muore a 63 anni. Il corpo di Emilia Santurini di Fonzaso, sbalzato oltre una recinzione in via Fenedora, trovato dopo una notte di ricerche sull'asfalto, le tracce dell'incidente e lo specchietto perso dall'investitore, il 24enne, è indagato per omicidio stradale. Investita e uccisa mentre fa una passeggiata vicino casa, è morta così lunedì sera Emilia Santurini, 63 anni di Fonzaso, rimasta a bordo strada per un'intera notte. Solo ieri è stato rinvenuto il cadavere della donna, in poche ore i carabinieri hanno smascherato il pirata della strada, è un ragazzo di soli 24 anni del posto che ha raccontato ai militari di non essersi accorto di nulla perché era distratto dal telefono. È indagato per omicidio stradale con l'aggravante dell'omissione di soccorso se venisse provata la volontarietà della fuga. Non c'è alcun provvedimento restrittivo nei suoi confronti, è denunciato a piede libero. L'allarme è stato lanciato ieri mattina da due dipendenti della ditta Mauser di Artene, in comune di Fonzaso, che hanno scoperto il cadavere della donna nella zona antistante della fabbrica. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Feltre e i colleghi del nucleo investigativo provinciale perché all'inizio il quadro non era chiaro, solo successivamente è stata confermata l'ipotesi dell'incidente stradale, tremendo l'impatto dopo l'investimento, tanto che la donna è balzata al di là della recinzione facendo finendo nel giardino della Mauser e vi è rimasta fino a ieri mattina quando la dipendente della fabbrica ha scorto qualcosa di strano tra l'erba e con un altro collega ha fatto la tragica scoperta. Sul luogo dell'impatto sono rimasti lo specchietto ed alcuni frammenti dell'automobile che hanno permesso in poche ore ai carabinieri di capire il modello della macchina, una Ford Fiesta e risalire al proprietario e ragazzo classe 97 della periferia di Fonzaso. Ora rimane l'atroce dubbio, poteva essere salvata, ferita tutta la comunità. È provato il sindaco di Fonzaso, Giorgio Slongo, che in queste ore ha seguito da vicino la vicenda e anzi è stato lui stesso a dare la terribile notizia ai familiari. Appena è stata ritrovata mi sono recato dai suoceri per informarli di quanto accaduto nel frattempo. È arrivata la figlia di Emilia con il compagno e ho dovuto dirlo anche a loro, è una cosa che non vorresti mai dover fare. Fa male che chi l'ha investita non si sia fermato a soccorrere. La sottolinea al sindaco può capitare il buio e la fitta nebbia che in quelle ore era calata sulla zona limitando la visibilità, ma il colpo è stato tremendo. La persona che era alla guida non può non essersi accorta di aver investito una persona. Fa davvero male che chi l'ha investita anche involontariamente non si sia fermato. Rimane il dubbio. Era morta o poteva essere salvata? Un dubbio che ti rimane per sempre. E un ulteriore approfondimento in merito a quanto accaduto a Fonzaso. L'investitore tranquillo a lavoro, ero al telefono, non mi sono accorto. I carabinieri in poche ore hanno stretto il cerchio attorno al responsabile. Un Fonzasino del 1997, il giovane caduto dalle nuvole quando i militari ieri sono arrivati nella fabbrica dove è impiegato. Era una macchina vecchia, una Ford Fiesta di più di 20 anni, un modello raro prodotto solo per tre anni e poi uscito dal mercato. Ed è proprio la particolarità del modello e la conoscenza che i carabinieri hanno del territorio che hanno permesso nella tarda mattinata di ieri di individuare il ragazzo che ha investito Emilia Santurini e ad andare a prenderlo nella fabbrica in cui lavora. Il 24enne di Fonzaso si è giustificato dicendo di non essersi accorto di aver investito qualcosa e di essersi distratto con il cellulare. L'auto e il telefonino sono stati sequestrati e sono a disposizione degli inquirenti per gli accertamenti tecnici. Il 24enne è indagato per un omicidio stradale aggravato ma non è stato arrestato. Il paese sconvolto camminava con una pila. La notizia della morte di Emilia, una bella signora dall'aspetto giovanile che amava passeggiare e andare in bicicletta, ha lasciato l'intero paese sgomento. La donna abitava ad Arteni, in via Don Pietro Corso al Civico 45. Ieri mattina nel bar della frazione principale di Fonzaso non si parlava d'altro. Gli avventori del bar davanti allo slargo di Piazza Italia erano a corrente anche del luogo dove era stata trovata Emilia, morta senza un minimo di soccorso e investita mentre faceva la sua passeggiata anche abituale sulla grande via Fenadora, la via principale della zona industriale di Fonzaso. Quello che l'ha investita sembra da destra della strada andando verso il centro di Fenadora deve essersi accorto senza dubbio dell'incidente, dicevano i fonzasini, ma non si è fermato. Certo quella è una strada ampia che invita a correre. E lui doveva correre per non vedere che stava uccidendo una donna. Infatti non ci sono segni di frenata per terra. Voltiamo pagina, siamo a pagina 5 del Gazzettino di Belluno. Notizia che ci porta nel capoluogo. Il vecchio ospedale diventa una piazza. La trasformazione dello storico edificio di via Loreto ha permesso di realizzare un nuovo spazio urbano in centro. Nell'area che collega Piazza dei Martiri e Via Caffi è sorto anche Palazzo Campedel con locali e negozi ed ecco alcuni scatti della zona che è stata convertita nel capoluogo bellunese. Torna l'incubo, riapre i battenti, terapia intensiva grave in una settata a quattro anni. I positivi ieri erano 426, 40 quelli nuovi immunizzato. L'81,7% della popolazione bellunese più 0,4% dei residenti. Notizia riferita all'emergenza Covid e alla campagna vaccinale nel territorio bellunese. Io, ingegnere del riciclo beffato dalla legge, il caso Marco Fontana svuota cantine che ridà vita a oggetti vecchi condannato per le cose accumulate nel suo giardino a Marisiga. Dopo averli sistemati, donava mobili e suppellettili alle associazioni benefiche, ma per il giudice erano rifiuti. Lo sfogo dell'imputato, questa sentenza dice che il riutilizzo dei materiali è reato, non credo più alla giustizia. E sempre dal capoluogo, una tale Grini in piazza alla pista di ghiaccio. Politica, sempre dal capoluogo, il PD guarda il futuro di Palazzo Rosso. Prima programmi, poi si fanno i nomi. Siamo a pagina 9. Feltre, realizzato il mio sogno di diventare un casaro. Concluso i corsi dell'Agrario dedicati a tecnici lattiero, caseari e futuri birrai alle lezioni ideate dal compianto gastroenterologo De Boni, 30 gli iscritti. Notizia di spalle, Pedavena, didattica futura, la Cisla Scuola va a congresso. Appuntamento domani alle 9.30 in Bereria, Pedavena. E adesso si parla di ACC, in questa edizione del Gazzettino di Belluno. ACC, lo sfogo del viceministro. La soluzione era Italcomp, la todde critica sulla gestione della crisi da parte del ministro Giancarlo Giorgetti, contraria al taglio di questo progetto. De Luca serve un intervento fin cantieri. Il dramma ACC continua a tenere banco. Il 20 scade il termine per presentare eventuali offerte di acquisto. Il 22, il ministero dello sviluppo economico, dovrebbe calare le carte sulla sorte che attende lo stabilimento di Melle, produttori di compressori per la rifrigerazione domestica, che occupa 300 persone. Se non ci saranno acquirenti, si profila il fallimento, anche se all'orizzonte si profila un possibile interesse di fin cantieri. Così abbiamo ricostruito la nostra montagna. Notizie che ci portano in Agordino. Il sindaco Chissale incontra i cittadini per illustrare la rinascita post-vaia. Notizia dedicata al comune di Agordo. Ed Agordo a Selva di Cadore, notizia di spalle. La festa di San Martino dedicata a Manuela, la cuoca dell'asilo Mansueto della Torre, è pronta la pensione. All'appuntamento anche il neosindaco Luca Lorenzini e l'assessore Elena Dolcetta. Sempre dalla provincia di Belluno, Cortina, slitta di quattro mesi la fine del restauro al cimitero, concessa la proroga chiesta dalla ditta, di mezzo c'è l'inverno. E da Pieve di Cadore, teleoculistica per diabetici, controlli a chilometro zero, presentato ieri il nuovo strumento che consentirà di fare visite a distanza, ora si muovono le immagini e non le persone. L'onorevole Bond, bene per la montagna. In questo scatto vediamo il direttore generale Maria Grazia Carraro e due infermiere alla presentazione del nuovo strumento. Sempre da Pieve di Cadore, rogo in pizzeria, processo lontano, prescrizione vicina. Ieri prima udienza ma solo per raccogliere istanze, poi il rinvio. Non è ancora stata fissata una data per il processo che riguarda l'incendio doloso che il 24 aprile 2017 distrusse la pizzeria Mordi e Fuggi di Pieve di Cadore. Sono passati più di quattro anni e mezzo dai fatti, diventeranno 5 ad aprile 2022 e già si manifesta il rischio di prescrizione, sette anni nel caso dell'incendio doloso. L'udienza di ieri mattina in tribunale a Belluno è servita per raccogliere le istanze delle parti e le liste testi di ciascuno, ma il giudice ha rinviato al 13 dicembre, giorno in cui saranno decise le date del processo. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, passiamo immediatamente al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 14, ci porta nel capoluogo bellunese, Fidu ha terminato Palazzo Campedel, uno spazio restituito alla cittadinanza. Notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino, ieri la consegna delle chiavi della sala pubblica al comune, a breve la festa nella nuova piazza pedonale in Tened, ecco un momento dell'inaugurazione e la zona interessata, il corpo di Palazzo Campedel che al piano terra ospiterà il Fab Lab. Pagina 15, filiera corta, il futuro del distretto del freddo, l'Europa avrà bisogno di compressori, dall'esperto Matteo Gaddi, una spinta per il futuro di ACC, Donazzano, l'assessore regionale lavoro, realtà strategica, fincantieri, deve intervenire. E a proposito della crisi industriale che ha colpito la Val Belluna, crisi in Val Belluna, idea la giornata decisiva, oggi l'accordo al Mise, Borgo Val Belluna, De Carlo a Giorgetti, salvi le due fabbriche. E ancora Unesco, domani in primiero l'annuale ritrovo, rifugio alpini e strategie comuni per un turismo sostenibile. Pagina 16, l'impianto Lambioi, notizia che ci porta nuovamente nel capoluogo, spessa arena, il bar resta chiuso, pericolo assembramenti, Gasperindi sportivamente troppo piccolo, con il Covid è difficile da controllare, in futuro l'ideale sarebbe una gestione diretta delle società, non dei privati. E ancora dal capoluogo comunale, il PD prosegue il dialogo con la maggioranza, festività, a Natale tornano mercatino, luminarie e pista da ghiaccio. Notizia sempre riferita al capoluogo bellunese. Pagina 17, del Corriere delle Alpi, il Sentiero dei Lupi, tre fotografi studiano la loro vita nell'area del parco. Appostamenti e posizionamento di fototrappole è dura a riprenderlo, è un animale che aggira i pericoli. Boz, Mazzone e Sacchette, questi sono i tre ricercatori del progetto promosso dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Le informazioni che diamo sul sito sono sobrie e corrette. L'area protetta segue quest'attività. L'obiettivo del progetto è realizzare un piccolo documentario. Ed ecco uno scatto di uno dei lupi che sono stati ripresi appunto dalle telecamere e dalle fototrappole dei tre ricercatori. Pagina 18, è il giornalismo di qualità, la vera palestra per formare il pensiero critico tra i giovani, parte il quotidiano in classe coinvolti i 23 giornali, tra cui il nostro Ceccherini, educazione civica in chiave moderna. Pagina 19, la carabiniera Martina, un cuore da cavaliere, la 26enne Marchigiana in servizio a San Vito di Cadore racconta il salvataggio di Perarolo prima di ricevere l'onorificenza del presidente Mattarella. Sarà una grande emozione che spero di poter condividere con la mia famiglia. Questa è una delle dichiarazioni di Martina Pigliapoco che troverete in questa intervista a firma del Corriere delle Alpi. Pagina 20, Feltre, ed ecco la notizia che ha aperto questa edizione del Corriere delle Alpi come quella del Gazzettino di Belluno, notizia che ci porta a Fonzaso, travolta e uccisa, rintracciato il pirata, la donna sbalzata oltre la recinzione. Emilia Santorini era a piedi nella nebbia alla Fenadora, il 25enne non si è fermato, ho sentito il colpo ma non ho visto nessuno. Ed ecco in questo scatto, perché ci sta guardando da Facebook e YouTube, lo specchietto della Ford Fiesta che si è staccato proprio per l'urto tra l'auto e la signora Emilia Santorini. La patente di guida è revocata, si rischiano oltre sette anni la patente revocata, questo è sicuro, ma per l'indagato di omicidio stradale e fuga del conducente ci sarà anche un processo penale. Se non l'ha già fatto, l'uomo nominerà un avvocato di fiducia che lo difenderà nei vari gradi da affrontare. L'allarme della figlia, le ricerche nella notte, il corpo rinvenuto solo dopo 12 ore. Parenti e soccorritori hanno vagato fino all'alba lungo il tragitto abituale. Il fratello Egidio faceva lo stesso giro durante le passeggiate serali. Ed ecco la Ford Fiesta con il cristallo anteriore rotto e il fanale destro in pezzi. Questo appunto l'effetto provocato dall'urto contro la vittima che si può vedere sulla Ford Fiesta. Lo shock del ritrovamento è quella scarpa sulla ringhiera alla Mauser, ditta che produce imballaggi in plastica, si lavora 24 ore su 24, ma la sera gli operai sono tutti all'interno dell'azienda. Nessuno avrebbe potuto vedere e poi c'era un nebbione incredibile. Alcuni dipendenti sono lì, appena fuori dall'ingresso e discutono tra loro di quello che non avrebbero mai voluto vedere. A distanza di qualche ora sono ancora turbati per l'accaduto alle 7.30. E' arrivata una collega che è entrata con l'auto, ha parcheggiato e quando è scesa ha notato che c'era qualcosa di strano in mezzo all'erba. Nonna affettuosa e donna riservata, amava camminare e andare in bici. Oggi è previsto rientro dagli Stati Uniti del marito Giuseppe. L'uomo stava seguendo un cantiere per la sua ex azienda. Nonna affettuosa, ma per il resto una vita condotta in modo estremamente riservato, vivendo le sue passioni, le passeggiate alla bicicletta da sola oppure con i fratelli. Quando poteva coinvolgerli nelle sue uscite. E' questo il ritratto di Emilia Santurini. La 63enne deceduta tragicamente nell'incidente stradale avvenuto in zona industriale di Fonzaso, in prossimità della Fianadora. Una morte che ha lasciato il segno nella comunità fonzasina anche per le modalità del decesso. Avvenuto in modo cruento a casa di un'auto che l'ha investita in pieno, non lasciandole scampo. Emilia Santurini viveva nella casa paterna, in centro a Fonzaso e faceva la casalinga. Era sposata con Giuseppe Corso, che oggi rientra precipita osamente dalle Stati Uniti. Alla luce della tragedia accaduta, l'uomo già in pensione aveva risposto a una richiesta arrivata dalla sua vecchia azienda, nella quale ha lavorato tanti anni. C'era un importante lavoro da portare avanti in California e lui aveva detto sì. Il primo rientro era previsto a settembre, poi era stato spostato a inizio dicembre. Gli eventi luttuosi che hanno riguardato la moglie lo hanno richiamato immediatamente in paese e oggi i parenti andranno all'aeroporto di Venezia per accoglierlo e portarlo a Fonzaso. Quanto alla moglie Emilia, la donna da qualche anno aveva trovato una passione in più da aggiungere a quella per le passeggiate e per la bicicletta il nipotino che alcuni anni fa aveva regalato la figlia Erika, dipendente Clivet, e a Emilia piaceva il ruolo di nonna. Pagina 24, vette feltrine, Zeni conquista Eternity, il climber trentino sulle orme di Manolo. Anche il marchio Carpos festeggia la straordinaria impresa che ha permesso di violare una parete con un grado 9 a più. Ed ecco in questo scatto Alessandro Zeni che esulta dopo aver conquistato Eternity sulle vette feltrine. Sistema di allarme ok, l'Alemagna riapre anche di notte. Notizia che ci porta in Alpago Cansiglio. Il Via Libera dopo il summit in prefettura a Treviso saranno monitorati i versanti della montagna e l'intensità delle piogge. Intorno al Porcello ad Arsie, come il maiale ha influenzato lo scorrere dei decenni, interessante esperienza per tre classi del comprensivo di Ponte e gli adulti hanno partecipato con ricordi ed esperienze lavorative. Ponte nelle Alpi, una piazza in viola per sostenere mani di dramma. Nuova iniziativa simbolica a sostegno di una campagna solidare nella piazza della poesia della biblioteca che stavolta si colora in occasione della giornata mondiale della prematurità. Pagina 26, Val di Zoldo. Piovono ancora sassi sulla provinciale 251. Il sindaco si arrabbia. Scarsa sicurezza. Ieri mattina almeno quattro auto hanno schivato la frana. Non bastano le reti. Servono interventi radicali e definitivi. Questa è la dichiarazione del sindaco del comune di Val di Zoldo, Camilo De Pellegrini. Ed ecco alcuni scatti dei sassi caduti ieri mattina sulla 251 che hanno sfiorato le auto in transito. Il rapporto della fondazione Think Tank Nord-Est. Le fusioni portano soldi. È Val di Zoldo il più fortunato. Continuiamo con pagina 27. Siamo in alto a Gordino, Livina Longo del Col di Lana. Grones non ci sta. Su quella strada stiamo lavorando. Il sindaco risponde alle critiche di mobilismo su Davidino. In certe zone le tempistiche di intervento sono particolari. Ed ecco alcune dichiarazioni del primo cittadino del comune Fodom. I disagi oggi ci sono, ma presto arriverà una viabilità finalmente decente. Quanto al contributo richiesto da Paoletti, lo abbiamo erogato ancora il 29 di marzo. Limana, la consigliera Girardi lascia la maggioranza. Decisione sofferta, l'ho già spiegata alla sindaca Dezzanette, ma non mi sentivo più in linea con questa amministrazione. Agordo pugno al bigliettaio e l'autobus si ferma. Rinviato a giudizio. Taibon riaperti i sentieri da Soccol allo Scarpa. Pagina 28. Verso i giochi 2026. Parliamo ovviamente di Cortina Milano 2026. le Olimpiadi invernali. Malagò, il bastone e la carota con Torino è fuori tempo massimo. A meno che il presidente del CONI ribadisce che sarà solo Milano-Cortina, Piemonte in panchina, pronto se qualcuno, se qualcosa andasse storto. Ecco alcune dichiarazioni di Malagò. Il masterplan è quello, è risultato vincente. Si può modificare solo con l'ok di tutti i soci. Oggi a Roma un nuovo vertice. Con il governo ci saranno anche Zaia e il sindaco Ghedina, rispettivamente il presidente della regione e il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo. Pieve di Cadore teleocolistica parte dal Cadore il primo step della telemedicina e sempre da Valle di Cadore dosi di marijuana nella sua abitazione patteggia la pena. Passiamo alla rubrica Cultura e Società. Il premio alla triennale nelle fotografie di Matteo De Maida non c'è quiete dopo la tempesta. Il progetto dell'autore trevigiano ripercorre il post Vaia e ottiene l'Italian Sostenibili Photo Award 2021. Ed ecco alcuni scatti appunto dell'autore trevigiano che ha meritato questo premio. Spettacoli, zucchero ci riprova, 14 date di file in arena, cancellata per la pandemia. Rieco la maratona di concerti dal 25 aprile all'11 maggio 2022. Magico il palco di Verona. Elisso Virzalazze, c'è bisogno di tenerezza anche in musica. La pianista è oggi a Padova, venerdì a Venezia. È la testimone straordinaria di un'epoca. E adesso la rubrica bellunese. Giorno e notte, teatro nel castello di Barba Blu quando la curiosità ci aiuta a sfidare le paure. Domenica alle 17, torna a comincio dai tre al comunale. La fiaba di Però diventa un sogno con la compagnia Cuzziba. E sabato con Dolomiti Contemporane, il Vaiont verso il futuro e incontro dibattito al nuovo spazio di Casso. Passiamo allo sport, calcio, Trezzi sarà un grande derby. Ci aspettiamo molti tifosi. Sabato alle 14.30, l'attesissima sfida di promozione fra Limana, Cavarzano e Fiori Barpa. Il presidente dei padroni di casa. Non abbiamo nessun obbligo di salire in eccellenza. Coppa di terza Bassano, Pedavena, notte di coppa con la corazzata Juvelaghi. Zanella, nulla da perdere. Volle, il talento era domenica alla spessa arena a vedere la Darolde e rivela un retroscena legato allo sfortunato ragazzo di sedico. De Collum, bellunese alla corte del Treviso. È grazie a Davide se gioco ancora. Curling femminile, il disanno parte subito forte. Da sabato via agli europei. Basket under 17 femminile. Valbelluna rosa battuto, ma ci sono miglioramenti. E ancora dallo sport. Skeleton, Gaspar inizia a IGLS la volata olimpica. Ho provato la pista di Pechino. Mi piace. Calcio a 5 serie B. Sabato alle 16 arriva il Vicinalis. Sedico è già un'ultima spiaggia. Storti il tifosi ci stiano vicini. Ok giovanile, i 14 bellunesi brillano nel team azzurri. E ancora sport, judo, poker di cinture nere tra Feltre e Cesio Maggiore. E adesso un approfondimento in merito alla nazionale italiana. Calcio, Mancini, 4 mesi per ricreare la magia europea. Il CT non abbiamo vinto il titolo a caso, ma immobile confessa i timori del gruppo. Giocheremo con l'ansia del 2017. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Nuvorosità anche abbastanza estesa. Inizio giornata, poi nuvorosità più irregolare alternata a qualche scherita specie sulle Dolomiti. Ma si escludono locali riduzioni della visibilità per foschie o qualche nebbia durante le ore più fredde. Specie sulle zone occidentali. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20. Domani mattina all'una ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.